Omo Dio Zorini, da molti anni, da quando l'ho scoperto, vengo al Festival della letteratura di Milano, ora Festival della letteratura e della poesia di Milano. È una cosa grandiosa. Perché ci vado il 12 e il 13? Perché non posso farne a meno. La poesia è il pane. Venite tutti quanti, è una cosa interessante. Ci vediamo.